facciamo un video reaction al pass molto particolare perché non solo sola oggi c'è Mirko il mio trimensile sub non si dice neanche in italiano questa cosa però è mio sub da tre mesi quindi trimensile così perché mandava io non ho visto né l'evento e né il pass da quello che mi ha detto Franci non ne vale la pena però è da quello che sta dicendo Mirko mi sembra pure da lui di capire che non è che valga molto la pena allora cominciamo dal livello 1 regà io già che vedo due vabbè a parte sto cappello che permetto talmente inutile regà vedo le skin di due aragoste no no stai facendo fanno schifo io regà non mi pronuncio nel senso non è che tra maschile e femminile migliora la cosa però ok dopo vanex c'è anche quella rossa ma che cos'è questa virtual light così e poi vanex c'è il stesso piccone a livello 35 solo che che rosso vabbè questa è la cornice un altro cappello che non so che ci faremo anzi sì vabbè cappello più o meno quello a livello 10 mi ricorda qualcosa se non sbaglio un facsimile era uscito pure nei pacchetti quindi boh ma che è un corvo sì 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 allora adesso mo questa season hanno cambiato regà ci danno le skin a pezzi quindi prima le metto mo la parte sopra immagino che dopo ci sarà la parte sotto immagino allora la skin del livello 10 lasciamo stare no ma sai che cos'è forse quella del livello 20 è quasi carina mmm qual è il livello 20 questa che sembra tipo la versione femminile del cappellaio matto di alice più o meno questa ci sta un po' questa è carina ragazzi questa è molto carina mi piace però a livello 25 sembra i transformer va bene eh sì è quello che ti dicevo all'inizio no c'è prima il cappellino poi ti danno il pezzo sopra e poi ti danno i pantaloni diciamo tra virgolette no non l'ho capita sta cosa regà però va bene così ma poi vane così di che ti vanno un'invenzione a non hai creatività perché metti il stesso piccone al stesso livello solo che rosso no ma poi livello 32 cornici a non finire livello 35 questo è lo stesso piccone della scorsa season paro paro solo che rosso solo che rosso una scia che io ragazzi le scia non le uso perché quando stai a terra sembra che c'hai l'illuminazione di gesù e quindi evito ma cos'è questa è la cosa è la cosa è la fatta di peter 10 cos'è allora la pistola ci sta cioè non comprerai il passo per la skin di una pistola raga però comunque è carina ci sta ma è un articolo per me no è bella no ma ma per me ci mettono l'articolo sì sicuro è un articolo comunque livello 50 ragazzi ha messo i pantaloni mezzi robotici regà mi fanno abbastanza schifo quella scheletrica boh ma fa schifo non so regà non allora io preferisco più le robe scheletriche che quelle robotiche regà a me quelle robotiche non mi piacciono però tenendo presente che comunque ce lo danno a gratis nel senso che andando avanti nei livelli ce la danno a gratis vabbè nel senso me la prendo però bah bah impazzisco impazzisco livello 55 piccone un po' iper mega gigante ma sinceramente regà non riesco a capire ah è una ragosta regà mi dissocio guardi vanex dopo a livello 100 quello gratis allora aspetta allora la ragosta rossa mi dissocio mi dissocio tantissimo non mi piace non mi piace non mi piace ragazzi livello 65 la skin del del barrett mi piace a me piace il barrett io ragazzi ce vado matta e va bene ma fa schifo ma cos'è questa roba livello 70 la versione femminile dell'aracosta mi dissocio tantissimo franci ci lancia la challenge se vincete la prima partita prendete il pass eh ma dobbiamo vincere la prima partita però bah ok ok livello 75 ragazzi questo zainetto io mi dissocio tantissimo ma cos'è ma cos'è i gormiti cos'è i power rangers può essere può essere il power rangers cd oddio livello 80 questo corvo un po' fluorescente bah vanex no vanex vanex hanno copiato la fita fornite esatto bravo io quello volevo dire bravo ciao presente la femmina con il sito nero con le boccette la sì 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 mi pare che era uscita proprio in questi giorni su fortnite comunque ragazzi la skin a livello 85 che è la stessa del precedente a me piace un sacco oh mio dio oh mio dio sembra sembra Willy Wonka pro in versione femmina mi piace tantissimo questa del livello 85 ragazzi probabilmente prenderei il pass solo per quella ragazzi vanex questa sembra Willy Wonka in versione femmina molto ma ti dirò a me piace moltissimo ragazzi vi dirò la verità sti zainetti che sembrano veramente usciti dai gormiti mi fanno abbastanza vomitare power ranger ci stanno pure in vari colori ragazzi a livello 90 in poi ci stanno in vari colori no ma che cos'è questa roba la skin del coccodrillo no mi dissocio a livello 100 la skin del coccodrillo vane no ma la skin del coccodrillo in versione estiva ma stiamo scherzando ma poi non siamo neanche in estate ma stagliati più lesi di me allora la versione del quad così mezzo militare non mi dispiace però sinceramente regata qui a dirvi oddio questo pass ma vanex ma questo a livello 100 sembra cosa ghost rider sì c'era di tutto nei pacchetti stagionali ragazzi hanno diminuito pure quelli ma nel valentine's day che cosa hanno messo allora loghi si possono prendere le gemme si possono prendere le gemme se hai delle rose tipo ah beh oddio questo non è che mi dispiace daily mission completa ogni giorno le missioni designate per ottenere medaglie che potrai scambiare per aspetti a tempo mission 1 ripresi una 50 hp con bende o kit di pronto soccorso in una partita singola e ti da una rosa la seconda mission è unisciti in squadra con un amico e gioca una partita di da due rose e quello va bene e piazzati nella top 10 che è la terza missione anche l'ultima piazzati nella top 10 in modalità classica una volta e ti da due rose vabbè calcolando che dura fino al 25 febbraio regà a me sembra onesto e poi con 35 rose ti prendi 10 voucher che poi che ti puoi prendere i pacchetti che sono nel negozio e secondo me io prenderò quelli con 15 te ne danno 4 con 5 rose te ne danno 1 e poi ci sono i diamanti che vengono 5 diamanti e 3 rose è un diamante e una rosa questa fa comodo per chi tipo c'ha 499 oppure 490 gemmi che se vuole prendere il pass se le fa sì no ma secondo me queste ricompense sono molto meglio delle skin secondo me perché i voucher pacchetto per esempio a me mi porno fa comodo perché io i diamanti ce l'ho ma i voucher no e poi basta poi c'è la stessa skin giornaliera ci sono i stessi la skin giornaliera c'è la skin nensile ci sta c'è la ruota che ti da quella là ti danno i vestiti cinesi sì perché tanto saranno sempre le medesime però io un tanto ve le dico allora raggiungi il rango argento 1 che è sempre la solita apri 5 forzieri nel giro di 10 minuti in una partina singola che è sempre la solita accumula 3 armi speciali diverse che ormai sappiamo a memoria quali sono perché è sempre quella elimina 25 avversari con un'arma speciale costruisci 1500 volte e guida o viaggia in un veicolo per un totale di 240.000 metri è cambiato qualcosa? assolutamente no easy grazie mille ancora Mirko pure per la sub grazie a lei grazie Mirko ciao 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 ciao